Federico Angiulli Entri in campo per l'infortunio di Tremolada Ti piazzi quarto di centrocampo a sinistra E tiri fuori un gol splendido Tra l'altro di destro Tu mancino naturale Il gol che poi cambia l'inerzia del match Sì, sì Sono molto contento di aver segnato Dopo qualche parità in cui ero finito in panchina E sono contento che sia contribuito per la vittoria E sì, è un bel gol È stato bello Anche se pure io all'inizio me ne sono capacitato Perché quando sono finito sul destro Ho detto, ma cosa faccio con questa palla? Che ce l'ho sul destro, non è il mio piede Perché prima vuoi di grossare forse No, prima ho visto che Defendi veniva in sovrapposizione L'idea era di darla Poi ho visto che l'uomo andava verso di lui Quindi sono rientrato E ho detto, beh, proviamo È andata bene Meglio di così non si poteva Esatto Senti Questa grinta che hai Nell'affrontare i match Anche oggi che poi Si è entrato più tardi A partita in corso È ancora un ritaggio della cura Gattuso? Diciamo che ho avuto tanti allenatori in carriera Molto con questa cazzimma Diciamo Gattuso e Colucci Gli ultimi due per citarne qualcuno Su questo piano sono imbattibili Il mister pure è uno che fa Della cattiveria agonistica La sua forza Un po' ce l'avevo io Diciamo di mio Comunque sì Questa squadra Penso che per sopperire Magari Alla mancanza di nomi Un po' Qualitativamente Siamo inferiori a qualcuna Delle squadre di questo campionato Deba giocare sempre con grinta Un po' di ignoranza Cazzimma E corsa Poi le qualità Fortunatamente le abbiamo E oggi si sono viste Federico però ci hai abituato A dei gol stupendi Anche oggi Insomma abbiamo rimarcato L'abbiamo risottolineato Una dedica In questo bellissimo gol L'altra volta A tua mamma Perché era di Cesena Oggi è qualche parente di Spezzi Sono Spezzino Però sicuramente La dedico A tutti i miei compagni Ma in particolare A quelli della panchina Visto che in queste partite Sono stato fuori E siamo sempre stati Col sorriso A sostenere la squadra Quindi penso sia un premio E dare un messaggio Anche ai miei compagni Che magari oggi Non sono entrati Di stare sempre sul pezzo Perché abbiamo visto Poi quando si entra Si può essere decisivi E passare dalle stalle Alle stelle In un attimo Quindi lo dico a loro Che si allenano sempre a mille Qualcuno non è ancora esordito Però il mister Guarda tutto E poi possono capitare Momenti come questo Quando hai visto Andare in rete Quell'Euro goal Perché è un Euro goal C'è poco da dire Da fare Che hai sentito dentro All'inizio Quando ho tirato Ho detto Vabbè tiro Ritorniamo indietro A difendere Finisco l'azione Poi se la palla entrava Ci ho messo qualche secondo A realizzare Si avete anche la mia esultanza Avevo dato un video A un mio amico Sembro un deficiente Perché corro Per il campo In maniera buffa E appunto per questo Perché quando Faccio goal Emozioni Mille emozioni Passano per la testa Quindi l'unica cosa Che mi viene in mente Corre Corre Oggi Sotto appunto Da ragazze Da panchina Esultare con loro Perché quando sono entrato Mi hanno tutti incitato Come se si sentissero Che io potessi essere decisivo E quando segni La Trenana vince Il gol Della vittoria di misura Contro il Cesena Splendido Il gol Meraviglioso Oggi Nell'ampia vittoria Rimonta contro lo Spezia Quindi gol pesanti Sì Gol pesanti Belli e pesanti Belli e pesanti Fortunatamente Sì Sono contento Posso dire nient'altro Sono contento E spero che ce ne siano altri Altrettanto decisivi Federico Presenza alla mano Bordini e Defendi Giocano quasi sempre Volevo dire Defendi e Paolucci Quasi sempre Però oggi entra Bordini E non fa rimpiangere Paolucci Che era in panchina Per onor di firma Dopo l'infortunio Tu e Varone Numeri alla mano Avete giocato più o meno Avete grosso modo Lo stesso minutaggio Possiamo parlare di Quattro titolari Per tre ruoli E in particolare Dite e Varone Che vi contendete questa maglia Poi cambia magari La posizione di Defendi Se giochi tu Defendi Fai all'interno destro Viceversa È pesante questa situazione Oppure la vivete con tranquillità Allora Penso che Ne io e Varone Abbiamo 500 partite In serie B Quindi Se al nostro posto Giocano Defendi Paolucci Cioè diciamo che Loro sono i due titolari fissi Gente che ha giocato Tante partite Gente forte Noi dobbiamo solo Rimboccarci le maniche E dimostrare Ogni volta Che ne hanno chiamati in causa Io Sono stato fuori Quando sono stato fuori Ha fatto gol Varone Ed è giusto che poi Ha continuato a giocare Oggi sono entrato Ho fatto gol io E la prossima partita Potrei finire in panchina Giocare Giocare Il posto di Defendi Non lo so Il mister sacca Tanti titolari Deve Deve dosarli bene Deve scegliere bene Perché le partite sono tante Deve dosare le energie Anche Bordin Ragazzo giovane Ha giocato benissimo Oggi era l'esordio Zanon È entrato benissimo Tutti stanno dando Il loro contributo Quindi siamo contenti Che chiunque gioca Non far impiangere Che ha giocato la partita prima Poche giornate fa Però il mister Disse proprio Dopo una gara Angiulli I medici mi hanno detto Che stava bene Però in campo Non ha dimostrato Questo E poi c'è stato Tra virgolette Un Ti ha messo un attimo In panchina Per un paio di partite Ecco Stavi bene Ti sentivi bene Oppure ancora Non avevi smaltito Quell'infortunio Che avevi Ho preso una distorsione Mercoledì in allenamento Ho fatto tante punture Antidolorifici Che si fanno Si fanno abitualmente Per delle botte La mia era proprio Una distorsione Quindi All'inizio Ha fatto effetto Poi dopo una ventina di minuti Ammetto che avevo male Era una partita contro La Virtusentel Ah col Bari Forse sì Ho sbagliato io Però Come ho detto Abbiamo l'occasione Di giocarci questa Questa Serie B Ho detto Speravo di riuscire A tenere il dolore Però sì In partita Lo sentivo Infatti Non ho disputato Una buona partita Quindi Non so se Appunto perché ho giocato male Un po' per punizione Per il fatto di non aver detto Che avevo male Mi stiamo messo fuori Ma L'ho accettato Perché Sono stato forse stupido io Però la voglio giocare Era talmente tanta A Bari Dopo che venivo da Prestazioni positive Dopo che mi ero guadagnato Il posto di tolare Non me la sono sentita Di star fuori Perché pensavo di star bene Poi dopo poco Sono bastati qualche movimento Avevo male Ho fatto 65 minuti Con il dolore Quindi Il mister aveva ragione È stato stupido io Ha fatto bene A mettermi fuori E adesso spero Di averlo messo in difficoltà Oggi Dopo questa vittoria Aumenterà nel vostro gruppo L'autostima? Ma nel vostro gruppo Già c'era Anche quando eravamo Quando siamo stati ultimi Fino a 20 minuti fa Eravamo Eravamo convinti Dei nostri qualità Sapevamo che Non era frutto Di superiorità degli avversari Ma di errori nostri O comunque di Una nostra incapacità Di chiudere le partite O di gestirle Sappiamo che Se miglioriamo Sulla gestione delle partite Soprattutto Sulla fase difensiva Non parlo di difensori Parlo di tutti Fase difensiva in generale Possiamo essere La mina vagante Di questo campionato E in questo ruolo Di quarto di sinistra A centrocampo Tu che sei Essenzialmente Una mezzala sinistra Da mediano a tre Come ti trovi? A vedere Al di là del gol Sei entrato disciplinatamente In partita Tra l'altro Prima del gol Hai fatto un recupero Profondo Sul lato corto dell'area Quando hai trovato La linea di Rilancio Ostruita Coraggiosamente Sei rientrato sull'interno E poi sei uscito All'arrivale al piede Sì Diciamo che Comunque ero 15 metri più largo Rispetto a come Il gioco di solito Era un momento di necessità Il mister era fuori Quindi Anche un po' di confusione Che non abbiamo capito bene Subito noi Come metterci Poi si è sposato anche Varone largo E noi due che siamo due mezzali Abbiamo dovuto aiutare i difensori Perché Favalli non c'era Ferretti era già uscito Zanone è entrato dopo Quindi Diciamo che Terzini di ruolo Non ce n'erano Ci siamo adattati noi Però Bisogna far questo Bisogna sapersi adattare Perché alla fine in campo Se sai giocare Dove ti mette il mister Devi farlo vedere E sei stati bravi Bocca all'uomo Grazie Grazie Grazie